C'era qualcuno che proponeva date un po' più in là nel tempo, di scollinare la settimana, le feste di novembre. Abbiamo sottolineato l'esigenza di fare presto, di dare una risposta anche alle aspettative di certezza e di chiarezza, di trasparenza che vengono richieste. No, abbiamo consentito alla proposta del Presidente Grasso. Alcuni di noi erano pronti a lavorare l'oltranza anche in nottata, si è trovato un accordo sulle nove di domattina.